Eccoci, eccoci qua allo stand di Marcos Rea, lo vediamo qui con gli occhi di un, non di un mandrillo ma di un incantro, dopo arriva Cristina a rifare le fotine. Andiamo su Nicola Bacchia, questo uomo che ha scritto dai vari libri ma tanto dell'incanto, scusate se faccio un po' di pubblicità alla piccola editoria, no dove cazzo è? Ah no, qui, scusate, continuavo, ma tanto dell'incanto perché siccome è giusto, sembra che bisogna fare la pubblicità soltanto ai grandi editori, non ai grandi libri perché i grandi libri ne fanno pochi, sì noi dobbiamo rompere i coglioni, noi dobbiamo rompere i coglioni, noi dobbiamo rompere i coglioni, perché ci siamo riusciti, è qui un mattanza dell'incanto, noi dobbiamo fare una mattanza dell'incanto, cioè una mattanza di bellezza e Nicola Bacchia è colui che tra gli altri in questo momento fa queste cose, mattanza dell'incanto, Nicola Bacchia, Marco Saia Edizione, due amici, ma non perché siamo andati a bere al bar prima e ci siamo scambiati i numeri di telefono di qualche troia, ma perché ci amiamo, prima ci siamo amati da un punto di vista culturale e artistico, poi ci amiamo anche dal punto di vista umano, alla facciaccia di chi ci vuole male.